Che cos'è la mente? Commento. La mente è un passaggio dell'equazione evolutiva dell'essere che serve a che l'essere acquisisca un'ulteriore autocoscienza. Ma l'essere deve abbandonare la mente. I santi occidentali e orientali durante le loro estasi sono non mente. I maestri definitivamente disincarnati quando comunicano i loro insegnamenti attraverso gli strumenti sono anch'essi non mente. Usano la mente dello strumento. Ricordiamolo quando attribuiamo alla mente l'ultimo significato possibile della nostra vita.